Dopo settimane di insulti, di prese in giro, cugino Jonathan e cugino Luca finalmente affrontano in un tag team match Reddits e Synergo. Quei due sud server hanno preso per il culo i due cugini di Castel Fidardo dicendo che sono dei buoni a nulla, che predicano Dio, che fanno tutte cazzate, che verranno schiacciati. Ma chissà, chissà cosa succederà, chissà se riusciranno a difendere i loro titoli di campioni di coppia di FCW. E il match amici sportivi è next. Negli scorsi mesi il titolo del FCW Tag Team Champion è stato una hot potato, una patata bollente. E' passato da quei due sud server a Team Extreme numerose volte. E dopo la loro ultima vittoria, quei due sud server si sono montati la testa. Loro sono i campioni di coppia, credono di essere i migliori. E stanno sottovalutando tantissimo i loro avversari che vedete adesso entrare sul ring. I due cugini di Castel Fidardo, cugino Jonathan e cugino Luca. Ma io fossi loro non lì sottovalutare, assolutamente. Eccoli entrare ai FCW Tag Team Champions. Quei due sul server. Reddits alla vostra sinistra e sinergo alla vostra destra. La celebrità, l'essere campioni, gli ha dato alla testa. Camminano. Se la tirano, se la sentono un sacco. Si sentono anche annoiati, dice. Dicono, perché dobbiamo affrontare questi buoni a nulla? Noi ci meritiamo di meglio. Noi siamo FCW Tag Team Champions. L'arbitro si rileva al cielo. I titoli di campioni di coppia dell'FCW. Reddits e cugino Jonathan partono. E il match inizia, amici sportivi. Match valido per i titoli di FCW Tag Team Champions. Leggo sul braccio. Scorsi a puntata di FCW abbiamo visto cugino Luca contro sinergo. Oggi i due team sono contendanza di santa ragione. Mentre il loro cugino, il loro boss, Matteo Montesi, lo vedremo nel prossimo match. Contro Maurizio Merluso. Match valido per il titolo di campione di YouTube. Wow. Dini ti amici sportivi. E cugino Luca terra. Inerme. Mentre Reddits rigira intorno come un predatore. Irish whip. Oh, una Gat Breaker. Ecco, cugino Luca si è stufato, eh. Cugino Luca, che credi di essere supereroe, vedete? Che salto che vomitata. Cugino Luca che si è disegnato la maglia che vedete. Su, che sta indossando adesso, Roman Reigns. WWE. Boom, botta. Reddits, prene Luca, Russian legs whip. Reddits porta il suo angolo per dare cambio sinergo. E questo è un déjà vu di quello che abbiamo visto. Ultima puntata, scorso lunedì in FCW. Spin Tone. Fisherman Carry. Headblock. Che ragazza, che violenza quello è sul server, amici sportivi. I titoli di coppia li hanno dato alla testa. Pensare come erano umili, come erano sportivi. Wow, arm drag. Invece adesso si sono ritrovati. Essere i campioni più arroganti della FCW. Oh, DDT. E Luca ribalta il tavolo. Però è stanco Luca. Luca si porta il suo angolo, dà cambio a Jonathan. Jonathan contro sinergo. Sinergo prende Jonathan per la testa. Lo spinge via. Jonathan ribalta mossa. E un inverted DDT. Calcione. Cugino Jonathan, figlio di zia Papazzuca. Oh, oh, ah, 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 ah. Forse potrà portare il titolo del campione di FCW a casa. Esporlo insieme sui diseni. Matteo Montesi ci farà forse un video. Oh, 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 un dropkick. Quella temperi sinergo. Intanto Jonathan si è bloccato. No, ecco. Cazzottone. Un altro cazzottone. Violento stasera, cugino Jonathan. ricordo che i titoli più illustri wow i titoli più illustri del web per la categoria che tag team sono on the line stasera il sinergo provano schienamento 1 e ma neanche due i titoli fc tag team champions sono in palio questa manch sinergo da cambia reddits whoa Jonathan brinni reddits E li graffia la schiena Ah Backbreaker Della stante Si fa il segno della croce Oh E prova la chiusura Uno Due Questa standing headbutt Un altro calcione Prova a dare il cambio a Cugino Luca Eccolo Go Russian legs whip Scredits Ah Cugino Luca lo butta indietro Ai 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 Ahia Joe Breaker Una chop E il marchigiano si ritrova a terra E c'è Reddits come una franca E Steiner prova la chiusura Uno Due Ai 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 Molto vicini al conteggio di tre Ma niente da fare Non era abbastanza Vedi come Reddits non dà tregua Boom Russian legs whip Entra Jonathan Guarda la situazione Irish whip un'altra volta Ahia Lo butta in terra Reddits sale Su terza corda Cosa stiamo per vedere Una diving leg drop E Reddits lo sta aspettando Forse per il giudizio finale Amici sportivi ci siamo Eccola che arriva The Judgement E dopo questa i cugini Se ne vanno a letto Uno Due Oh Jonathan non ci sta E Reddits ingetreggia Reddits va a entrare in Ergo Che è più fresco Ergo porta Alle cordie religioso Cugino Jonathan Da con Erish whip Una ciope E butta in terra Anche l'arbitro Jonathan Boom Enziguri Jonathan alza Sinergo Li tira un cazzottone Cosa sta facendo Cosa fa Che cosa sta facendo Un cobra Incredibile Prova a chiudere Uno Due Ouch Jonathan ha provato Gomitata Ma sinergo Li va dietro Prova una sleeper hold Non vuole far dormire In tower In mossa di sottomissione E lo ributta indietro Anche Jonathan Erish whip Butta sinergo Nel suo Angolo Lo prende Lo mette a testa In giù Al paletto E le tira un calcione In faccia Una serie di Ah Suola della scarpa Suo orecchio di sinergo Non fa mai Mai bene Non lo posso assicurare Non l'ho mai provato Prova a chiusura Oh no Eeeh Cosa sperava di fare Jonathan Uh Aggressività Sulla testa Di sinergo La crap pelata Dello youtuber Cambio Entra Luca Wow Crucifix Se butta in terra Sinergo Una trascina E poi cosa da fare Wow Una serie di abbracci Si vuole bene Che cacchio stanno facendo Questi due Solleva Frankensteiner E va a chiudere Uno Due Eravamo molto Molto vicini Amici sportive Di avere nuovi campioni Di coppia Sterredes Non forse interventuno Ahia Suola in faccia E ciao ciao Cugino Luca Tavic drop Sinergo Sinergo corre Nessuno si muove Swinging neck breaker Reddits Non può stare qui Sinergo Sul seconda corda E riguarda di nuovo Su avversario Non si sa bene Perché Non attacchi Non si butte Ma che Che li ha preso Questi due Guarda lui E lei dice Stai giù Cane Che fassi Ah Che devo Rimontasse Di nuovo Su seconda corda Reddits E Cugino Luca Irish whip Cugino Luca si trova In cima Attenzione Super Frank Steiner Dalla terza corda Standing dropkick I cugini non se la stanno Passando bene Avevano la vittoria In tasca Non fosse stato Per Reddits German suplex E ora Luca Si riposa un attimo Da cambio a Jonathan Jonathan Che anche lui Non si è mai messo bene Oh ops Oh ops Sinergo entra Boom Cazzo Cazzottone In faccia Boom L'altro cazzottone Anche a Luca E sinergo Parte Con Judgment E credo che sia finita Amici sportivi Uno Due Luca Luca salva la situazione All'ultimo Secondo Questo affronto Ah Intanto vediamo Cugino Jonathan Che Buster Open Sta sanguinando Dalla fronte Irish Whip Ma te ci credo che poi sanguida Luca Luca Ferma sinergo Due Tre No Ci ho creduto per un attimo Ci ho creduto per un attimo Che cugini Potessero diventare campioni di tag team Dalla FCW E ci siamo con questa mossa stupida The Cobra The Cobra Amici sportivi Amici sportivi che match appassionante per i titoli Coppia della FCW Incredibile Incredibile Entra Mirantolan Tag team Entra Luca Intanto sinergo si è bloccato Oh ops Reddits Irish Whip Butta Luca all'angolo Luca si ribella Irish Whip Di nuovo all'angolo Ma dall'altra parte Luca prende Reddits Molta stanchezza E faticano Mette Sopra Il paletto più alto Reddits si ribella Reddits sale su terza corna E davvero Andiamo una West Coast Poof Amici sportivi Questi atleti sono distrutti Completamente Non ce la fanno Non ce la fanno I trambi vanno Agli angoli per dare cambio al loro partner Jonathan Entra in campo Reddits is in Oh Jonathan Grander Reddits Metto il centro di ring Wow mamma mia che forza Sono romano Ah sgambetto Reddits da cambio al sinergo Sinergo entra Jonathan che fa? Stato cotta la sprovvista Irish whip E botarella E' un'altra calcione Jonathan stassato E' un'altra amici sportivi Chiamate un dottore per favore Oh ops Oh ops Boom Questa gli ha fatto molto Molto male amici sportivi Ma prova a chi usura Prova a chi usura Uno Due Tre Oh Si nego i reddits mantengono i titoli Sono ancora loro I campioni Di coppia Della fcw E' su questo non ci piove I cugini hanno dato il massimo Per un ciufo d'erba non sono riusciti Ad alzare con le cinture che vedete adesso al cielo Ma ahimè Questi due gradassi Prossima puntata di fcw avranno da festeggiare E avranno da attirarsela ancora di più Perché loro sono ancora I campioni Di tag team E non l'fcw E parlando di campioni Il prossimo match è valido Per il titolo di campione youtube Il primissimo Campione FCW youtube champions Sarà incoronato Matteo Bontesi O Maurizio Merluzzo Chi sarà il vincitore